Dai su vieni in Abruzzo, vieni con me, abbiamo la montagna, nel mare ci si bagna, nel sangue puoi andare, non farti richiamare, ti stiamo ad aspettare, vai su fatti portare. Buonasera cari telespettatori e bentornati a Dilla Stellina, però è un Dilla Stellina particolare perché da questo lunedì cominceranno le puntate Summer Edition, quindi gireremo la sera, lungomari, situazioni, serate, cercheremo di stare vicino a voi in altro modo, sempre in mezzo alla gente, sapete il microfono è aperto, gli appuntamenti rimangono invariati lunedì, martedì, venerdì, sabato alle 20 su Super J, canale 634, la mail Dilla Stellina, chiocciolasuperj.it, numero whatsapp 351 7532 450, via Tripoti, torneo della Cammarana a Teramo, il famosissimo Gamma Cup. Ora siamo con i gemelli del gol, Camellini Vischia, Camellini appena tornato da un viaggio internazionale? Sì, sono stato in Brasile per scoprire dei nuovi talenti, ma alla fine non ho scoperto niente. Ma lei è madrelingua? Ma ci siamo un po' tutti d'osso, diciamo, perché è un po' Brasile, un po' tagliato, faccio, un po' tutti d'osso. Capito, quindi, che le piccine sono sotto marcate? Bravo, bravo, vedi che ti hanno detto subito a volo quello che avevo detto da dire. Capito, Vischia che ci dici? Che partita è stata? È una bella partita, adesso dovremmo pensare alle prossime, col bomber, è tutta una sicurezza, una bella squadra, siamo forti, dai. Siamo bomber una volta, adesso diciamo, bomberino, bomberino. Il nostro Gamma Cup che riparte all'anno dal Covid. Eh, beh, è una bella cosa, perché già l'anno scorso non si è fatto, è una bella cosa fare questo torneo, che è 20 anni che si fa e spero si continua a fare. Spero che lo vinceremo. Vido, come attenga la serie a te! Quando tornerai in Brasile? Appena è finito il torneo, vogliamo prendere un volo per Fortalecci. Va bene, va bene, grazie, buon viaggio. A voi! Buon viaggio. Ciao a voi, arrivederci. Siamo con Graziano Di Pietro, allenatore dei Grenzi. Mister, che partita è stata? È stata una partita senza nessun rimpianto, senza nessuna cosa. Siamo un po' bomber. Sant'Antonio è sorriso, soltanto centavolta nemica. Sono dei ragazzi che si divertono, pare che stasera è andata bene, speriamo della prossima. Come la vedi sta cammarana che rinasce? Rinasce, la cammarana è una bella realtà, dopo tutte queste cose del Covid, tutta questa situazione, lascia vedere la gente, il campo. I bambini che si divertono e tutto quanto, penso che ci siamo toccando quasi alla Mardavuscia, sì. Va bene, grazie. Siamo con Bruno Graziani, uno degli organizzatori del torneo, è bello rivedere la cammarana così, viva! Era ora, era ora, abbiamo aspettato fin troppo. Ovviamente dobbiamo attendere ancora, io spero che la gente si comporti bene, perché così si riescono a fare ancora più manifestazioni, soprattutto la nostra provincia. La gente viene, come risponde? È contenta, io vedo che c'è molto movimento, c'è entusiasmo. La gente... Si rivela, insomma, quella spensieratezza di un tempo. Le persone, piano piano, alcuni ancora non si lasciano un po' andare, ovviamente è stato... Va bene così, perché abbiamo ricominciato l'11 giugno, siamo stati forse con delle prime, non lo so, a terra. Però ho visto un sacco di gente che veniva contenta, anche se non a guardare. Quindi, diciamo che la presenza l'hanno garantita tutti. Sì, sì. Ma ci sono numerosi eventi, la sera si gioca, si mangia, si beve. E quindi, quello che è la tradizione nostra stile. Quindi, il mio tripote di fronte al Balcarezzo, facilissimo. Campetto dei Jacobis. Gamma K, il primo campo della Coppa Interamia. Primo campo Coppa Interamia, esattamente. E infatti arriveranno anche le vecchie grotie di Pallamano, il 16 e il 16 luglio. Ah, ci sarà un torneo di Pallamano? Un mini torneo di Pallamano, sì, che non c'è negli eventi, però i ragazzi della Pallamano lo vogliono organizzare qui. Quindi ci stiamo attrezzando anche per questo. Quindi, 17 e 18. 17 e 18, il 16 è la memoria Arnaldo Gelucci per il pugilato, quindi è multisport, diciamo. Multisport, multitasking. Multisport, multitasking. Va bene, grazie e buon lavoro. Grazie. Stiamo con Marcozzi, il re della cornice. Numero uno. Numero uno. Come la vedi questa Cammarana che rinasce con questo torneo? Beh, veramente, guarda, io sono 46 anni, ci sono nato e questo qua mi ci sarò sbucciato, non si sa, quante volte le ginocchia. Non giocando a pallone, perché io e il pallone siamo due cose diverse, con gli skateboard, con i carretti, con le biciclette. Quindi c'è un sport alternativi, dai. Sport alternativi, sempre. Quindi qua, rivedere la Cammarana così viva, ti fa piacere, ti viene il cuore? Beh, certo, bellissimo. Dopo Angelo qua è molto bravo a organizzare le feste, ha fatto un bel calendario, con un bel torneo di calcetto. Bello, bello, mi piace molto, infatti la sera diciamo che tutte le serbe vengono a fare una visita e gli arrosticini che sono spettacolari. Tutto bene, quindi tu garantisci la presenza sindacale, ogni sera vieni a timbravi. Vengo a timbravi, sì, il cartellino, sì, sì. Va bene, per quanto riguarda il resto, il lavoro tutto a posto? Il lavoro tutto bene. A timbravi una cornici, mi avete ascoltato, ma capita, capita, logicamente, quante volte ti capitano queste cose? Sempre. Sempre, però non mi metto la minuta e non mi ha chiamato. Bella pubblicità. No, no, che signore, io vi invito a fare le cornici da Soquadro. Da Soquadro. Ecco, ricordiamo la città qua sotto la mamma. La soquadro. La Soquadro. Va bene, va bene, va bene. Grazie, a voi, grazie. Remo Cipriani, uno dei giocatori del Gamma Cup. Quante volte hai vinto questo torneo? Sembra meno di me, sicuramente. Infatti ti stavo a dire, sicuramente meno di te, però qualche torneo... Qualcosa me l'hai rubato pure tu. Un sacco di finali contro. Un sacco di finali contro. Come lo vedi questa cammarana che rivive attraverso questo torneo? Un po', il torneo della cammarana, dai... È l'istituzione. Sì, per noi sì, sarà 20 anni a vedere, a giocare, a fare birra, a spendere i soldi, a fare guadagnaggio. È chiaro, è chiaro. Però rivedere, insomma, il quartiere così fa sempre piacere. Come no, è bello, è bello. Infatti non si vedava neanche se si rifaceva oppure no. Tu giochi anche quest'anno? Questo non lo posso fare. Essendo tesserato non lo posso fare. Quindi ancora giochi? Sì, gioco col bancone, gioco. Va bene, Reo, grazie e buona serata. Grazie a te. Ciao, ciao. Siamo con Angelo Graziani, diciamo, il presidente, il presidente del Gamma Cup. Sì. Angelo, com'è ripartire? È abbastanza dura, c'è senso far rispettare le regole. È difficile, anche perché la gente vuole un attimo liberarsi da questo peso del Covid. La gente com'è? Contenta? Contentissima, contentissima. Tutti quanti diciamo che sono contenti della ripartenza di questo evento e speriamo che non veniamo fuori. Ricordiamo, al Gamma Cup ci saranno tanti eventi, abbiamo incontrato il palinzesto. Sì, sì, abbiamo oltre a organizzare il torneo in sé per sé, abbiamo cercato di portare qui alla Gammarana un po' di eventi insieme al fratello di Vittorio Il Fenomeno. Musicando a spettacolo. Esatto, esatto. Per poter ripartire in tranquillità e in serietà sempre rispettando le normative. Normanti Covid. Che prevede il torneo? Quando ci saranno le finali? Beh, intorno al 15 luglio, 14-15 luglio, semifinali e finali. Quest'anno sarà long life. Sì, sì, è stato molto lungo. Molto lungo. Abbiamo organizzato in maniera soft. In maniera soft. Era difficile, ma ci siamo riusciti. Vabbè, onora a voi, è bello vedere tutta questa gente che riempie il campetto. È vero, è vero. E ci devi fare un favore, ci devi salutare il Chihuahua che ci manca, ricordiamo. Chihuahua, riprenditi, Chihuahua. Il grande Renato che ci manca. Un abbraccio, un abbraccio a mio suocero e speriamo che si riprenda, davvero. Mario, come mai le penne Super G? Non lo so, l'ho trovata qua, sei lì. Mio zio. Lo zio. Ciao zio, sponsor top stasera. Sponsor top. Super G è anche sponsor del Gamma K. No, point, point. Point di costruzione, sì, sì, vabbè, per trame. Tutto insieme. È chiaro, è chiaro. Ci vediamo al come lo vedi questo torneo da Cammarazzi. Dopo tanto riparte... Bene, bene, bene. Finalmente ci ridivertiamo un po'. Ci divertiamo, ci divertiamo. Avete voglia di giocare, bella manifestazione. Sì, belle partite e soprattutto post partita. Ci divertiamo, ci divertiamo. Quindi è più una questione del dopo che del meglio. Tutte e due, tutte e due. Mario, vuoi aggiungere qualcosa? Tu che c'hai una certe esperienza. Io sono sempre nel post partita. Ma quanti anni è che giochi questo torneo? Qua sono una decina di anni. Una decina di anni? Dieci, quindici anni, sì. Da quando ci sta? Bello. Sembra stato il torneo più bello. Piazza Marti non si fa più, quindi c'è rimasto solo questo il torneo a terra. Speriamo che riparta tutto e che si ricomincia a giocare seriamente, perché la voglia è calma. Tu, non so quello, sei bellissimo. Sì, sì. Io so. Partito in calza. Riparti il torneo alla gammarana, poi voi vi siete venuti a fare un bicchiere. Ci siamo, capitati. Ci siamo, capitati. Un anticalcistico come te che però omaggia le bacchette. Eccola. Che si dice a terra? Come la vedi? Vedo bene. L'estate, tutti freschi. Tutto il suo caldo, tutto il suo fraschio. La sera è più fresco, sì, effettivamente. Va bene, va bene. C'è un certo Francesco lì che vuole... Chi è? Incaini? Sì, vuole parlare. Incaini, dottor Incaini? Va bene. Grazie, buona serata. Ciao, buona sera. Finisce qui un'altra puntata di Dylan Stellina Summer Edition. Siamo stati al Gamma Cup di Via Tripodi a Teramo. Vi ricordo i nostri appuntamenti. lunedì, martedì, venerdì e sabato alle 20 su Super J Canale 634. La mail di Dylan Stellina a chiocciolasuperj.it Il numero WhatsApp 351 7532450. Un ringraziamento a Fabio Le Riprese. Tutta Super J, ecco come dice Stellina. Fatti portare. Alla prossima. Non sto facendo niente, da seduto sto a sudare. Mi sto a sfiatare, mi sto a sfiatare. Tutti sulle storie mettono le foto al mare. Gli occhi a sudare, gli occhi a sudare. Questa grande condizione che è sudare può aiutare a farti seccare, farti seccare. Eppure sudo tanto e non riesco a calare. Mi sto a sfiatare, mi sto a sfiatare. Però, ma questo caldo che fa oggi no. Però, io ti giuro non lo reggerò. No, io non esco, mi sto a sfiatare. E' ancora presto, mi sto a sfiatare. No, non mi vesto, mi sto a sfiatare. Ma adesso voglio solo andare al mare. Sto sudando tanto, fammi asciugare. Sogno un magno dentro l'acqua minerale. Mi sto a sfiatare, mi sto a sfiatare. Mi sto a sfiatare, mi sto a sfiatare. Signore, per favore accendi un po' il ventilatore. Che mi scossi dal naso la vostra buzza di sudore. Che le mie ascelle sono bagnate pure il giorno di Natale. Penso a boia e discoteca quando mi metto a ballare. Ho comprato il teodorante che dovrebbe profumare. Mi sto a sfiatare, mi sto a sfiatare. Il mio cane disperato neanche lui ce la può fare. Si sta a sfiatare, si sta a sfiatare. Però, con questa scusa del profumo, amore. E no, sicuro voi non vi lavate, no. Fermate presto, mi sto a sfiatare. Non è uno scherzo, mi sto a sfiatare. Io me ne esco, mi sto a sfiatare. Con tutto questo, mi sto a sfiatare. L'aria condizionata, cesa l'ho lasciata. La broncopolmonite secca è arrivata. Mi sta a sfiatare, mi sta a sfiatare. Mi sta a sfiatare, mi sta a sfiatare. Io la voglio dopo star sudata. Una bella bibita ghiacciata. La devi bere piano, fai attenzione. Se no, di sicuro, si bloccherà la digestione. No, io non esco, mi sto a sfiatare. E ancora presto, mi sto a sfiatare. No, non mi vesto, mi sto a sfiatare. Ma adesso voglio solo a tagliamare. Sto sudando tanto, fammi asciugare. Sogno un bagno dentro l'acqua minerale. Fatti portare, fatti portare. Fatti portare, fatti portare. Dai su, fatti portare.